Le case di riposo di Bassano dovranno a breve trovare un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo presidente e soprattutto trovare una direzione che le porti ad affrontare il continuo invecchiamento della popolazione come istituzione a servizio dei cittadini e non solo come una sorta di azienda privata gestita con esclusivi criteri di sostenibilità economica, quasi dimenticandosi dell'alto ruolo sociale che queste istituzioni hanno nel territorio. Un passo importante sarà la convocazione in data da stabilirsi della commissione dove tra l'altro si parlerà proprio della questione della governance della casa di riposo. Naturalmente questa sarà interessante in particolare se si presenterà il presidente uscente comunello a cui, questi sono le voci, farebbe molto molto piacere essere riconfermato. Difficile però che questa riconferma possa materializzarsi anche a causa della scarsa disponibilità della presidenza a relazionarsi in modo continuo con il governo cittadino aducendo l'indipendenza del consiglio di amministrazione dalla politica, dimenticandosi però che è proprio la politica ad averlo eletto e che sarà proprio la politica ad eleggere il prossimo. Difficile che il sindaco Elena Pavan si farà sfuggire la possibilità di mettere un leghista a capo degli istituti o perlomeno, come è logico che sia, nello spoiling system, un qualcuno fortemente legato alla Lega stessa. Ora il pallino è in mano in particolare all'assessore al sociale, ma vi zanatta al segretario cittadino della Lega Roberto Gerin, oltre al sindaco che naturalmente supervisiona ogni virgola. L'importante è che le case di riposo tornino a rispondere, se non solo a criteri politici, anche alla politica, che salvo prova contraria è espressione della cittadinanza e che si abbia la dovuta attenzione verso le esigenze delle fasce più deboli.